ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video che oggi mi trovo dentro casa mia e non faccio la serie non farò più la serie in hardcore perché l'ultimo episodio ero vicino dentro una grotta vicino a uno spawner di ragni delle caverne quelli avvelenano e rompono un po allora mentre stavo registrando dopo pochissimi secondi mi ammazzano ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video io sono itamaster e ok l'ultima volta erano mi ero riparato qui dentro mi chiede riprendo le cose un nuovo dolce ok ragni laggiù è stata lì e io non voglio morire ma cerchiamo di distruggere col mob spawner di ragni che è lì um no 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 guarda ragni giusto giusto doveva spawner ok allora vediamo di distrungerlo dalla distanza oh puttana no ovviamente il mondo si cangella e allora è lì che mi sono un tantino incazzato ecco qui la chiesa del male e mi sono un tantino incazzato e ho deciso di mandare a fanculo con la serie perché se devo morire dopo pochissimi secondi detto sinceramente non mi va quindi quindi continuerò a fare altre serie su I'm a live e quella in cooperativa con Inex 94 e forse aggiungerò qualche altra serie quella lì che sto facendo che facevo su Aerobrine anche quella appuntare perché la mod Aerobrine non c'è tra poco passeranno questo schifo di gioco verso febbraio metà di febbraio alla 1.4.7 o 1.5 non correggetemi se mi sbaglio un altro schifo di aggiornamento e raga che dirvi spero che almeno le altre serie mi piacciono io continuerò a farle continuerò a farle e nulla raga io faccio accoppiare queste due mucchette no quasi così le faccio accoppiare e niente anche la serie in arcod puff sparita come nulla spero che almeno le altre serie vi piacciono almeno continuerò a fare quelle ok do da mangiare alle mucchette così mi fanno il mucchino stoppo qui il video mucca mucca mucchetta tutta la serie è andata a puttane ringrazio the play the player gamer 97 o 98 mi sa 97 vabbè troverete il link in descrizione per aver messo per aver messo il mio canale in descrizione in un suo video andatelo a vedere andatelo a vedere vuole trovare erobrine nella 1.0 proprio la prima versione 1.0.11 proprio le prime versioni di minecraft vuole trovare erobrine che dirvi che da itamaster è tutto passo e chiudo e chiudere Grazie.